La grande Pallamano è sempre più di casa in Abruzzo. Questa mattina a Chieti, nel Salone della Camera di Commercio, la Feder Pallamano ha presentato la serie di eventi che caratterizzeranno la stagione sportiva. Il primo e grande appuntamento è rappresentato dalla sfida tra Italia e Francia del prossimo 16 ottobre alla Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Esordio casalingo degli azzurri nelle qualificazioni agli europei 2024. La partita vedrà la squadra allenata da Riccardo Trilini contro una delle realtà, quella francese, più forti di sempre a Reduce. Dal loro vinto alle Olimpiadi di Tokyo rimane centrale nella programmazione della federazione l'attività del centro tecnico La Casa della Pallamano di Chieti. Qui, il 6 novembre, l'Italia femminile sfiderà la Bulgaria per le qualificazioni ai mondiali 2023. L'impianto teatino ospiterà anche le finali di Supercoppa maschile e femminile il 21 dicembre e le finals giovanili nei mesi di maggio e giugno. La partita con la Francia, al di là del significato sportivo come qualificazione europea, girone eliminatorio, è una partita icona importantissima, bellissima per il valore e il grande blasone degli avversari. La partita la faremo a Pescara in collaborazione con l'amministrazione comunale e la partita invece di qualificazione, primo step di qualificazione al mondiale femminile con la Bulgaria, ci sarà ai primi di novembre a Chieti e lì puntiamo chiaramente al passaggio del turno. La quotidianità della Casa della Pallamano è rappresentata però anche dal campionato, rimane dunque l'impianto teatino luogo delle gare interne del Campus Italia, la squadra federale composta dai principali talenti italiani, progetto giunto al secondo anno. Quest'anno il club partecipa al campionato di Serie Gold.